Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Valentina e Stefano, coniugi romani, con la loro storia di tradimento raccontata a C'è posta per te hanno catturato l'attenzione e scatenato commenti e critiche. Ma cosa è successo dopo la puntata? Come sappiamo C'è posta per te è registrato e, nel dettaglio, la registrazione della prima puntata andata in onda ieri 7 gennaio potrebbe essere avvenuta anche diverse settimane prima. Dopo la messa in onda della storia di Valentina e Stefano, in tanti si sono chiesti come sarà mandata a finire tra i due. Sul web in tanti si sono prontamente cimentati alla ricerca della coppia romana senza grossi risultati. Ma qualcosa è subito spuntato fuori dai meandri dei social. Si tratta di una segnalazione che, se reale, avrebbe dell'incredibile. Ve la riportiamo a seguire, ribadendo che potrebbe anche non essere veritiera. Quindi vi invitiamo chiaramente a prenderla con le doverose distanze. Sono un amico del ragazzo, so che hanno fatto pace definitivamente e lei ora aspetta il quarto figlio. La trasmissione è andata in onda a luglio. Se la notizia fosse vera, siete scioccati.